non maestro disse l'uomo come medita egle a cura di vb rimasero così per qualche istante egle disse maestro non maestro disse l'uomo hai dimenticato tutto no anzi ho meditato da sola ogni volta che potevo egle osservò meglio l'ambiente era modesto ma lo amava lì era stata in pace quel luogo l'affascinava con il maestro aveva meditato molte ore da soli quando nella scuola non entrava ancora anima viva in principio il contrasto tra l'isolamento di quel luogo e la grande città le era sembrato irreale ma poco a poco aveva apprezzato la bellezza della meditazione che adesso le era familiare come un vestito vecchio